Pesco Sanita Un dedolo di viuzze, un borgo antico incassonato tra l'Irpinia e il fortore E' da qui che si rinnova l'appuntamento settimanale che la nostra emittente riserva alla celebrazione della liturgia eucaristica e alla scoperta dei principali luoghi di culto della Campania Le telecamere di inviaggio tra fede, arte e cultura questa settimana ci portano appunto in provincia di Benevento, a Pesco Sanita Trasmetteremo tra mezz'ora circa la Santa Messa dalla Chiesa del Santissimo Salvatore Una Messa che sarà ufficiata dal parroco Don Antonello Gubernale Che salutiamo, buongiorno e buona domenica Buongiorno a voi, buona domenica e ben arrivati Buon inizio di Quaresima, siamo la prima domenica di Quaresima Ecco cerchiamo di vivere bene questo momento e soprattutto questo tempo di grazie che il Signore ci offre insieme alla comunità Lei ha la sua prima esperienza qui a Pesco Sanita, è parroco precisamente da 47 giorni, difficile dare giudizi Ma un'idea di questa comunità immagino lei se la sia già fatta Diciamo che per me dove il Signore mi manda mi sta bene, sono tutti figli di Dio, amo tutti, accolgo tutti e penso di fare tutto secondo il cuore di Dio Piano piano si va avanti, iniziamo il cammino Questa è la chiesa madre, la chiesa principale del paese, una chiesa le cui origini si perdono nella storia A quando risale la prima costruzione? Alla fine quasi della metà del Cinquecento appunto sembra che le origini risalgono a quel periodo lì Anche se c'erano altre chiese qui nella zona, nella zona centrale di cui si sono perse le tracce Tra cui appunto la chiesa di San Rocco e quella di Santa Croce di cui appunto non abbiamo più tracce E poi c'erano anche l'oratorio, un'altra chiesa confinante sul territorio che è nella zona di Monte Leone Oggi dedicata alla Madonna delle Grazie Ma il centro e la vita sacramentale della chiesa si svolge proprio qui nella chiesa del Santissimo Salvatore In onore a lui e compatrona Santa Reparata Che poi ecco vedremo anche l'urna dove ci sono le spogli, i resti mortali di Santa Reparata E allora non perdiamo altro tempo Entriamo all'interno della chiesa del Santissimo Salvatore Per scoprire le sue immense ricchezze Eccoci finalmente All'interno della chiesa del Santissimo Salvatore Con noi il professor Mario D'Agostino Storico locale Professore, questo luogo di culto ha delle origini che vanno nel Cinquecento Seconda metà del Cinquecento Però è evidente che nel corso dei secoli si sono susseguite diverse ristrutturazioni Per cui un po' gli stili si sono accavallati, è così? Sì sì sì, questa inizialmente era una chiesa diciamo di stile neogotico Si vede dagli archi a sesto acuto Poi successivamente, siccome la chiesa era piccola, è stata ampliata Il primo ampliamento è stato fatto, diciamo, verso la fine Cioè la ristrutturazione alla fine dell'Ottocento da Don Giandonato Orlando Poi Era un parroco della comunità Poi altre ristrutturazioni agli inizi del Novecento Con Don Domenico Sabella, un altro parroco del luogo Però la vera ristrutturazione fu fatta tra il 1921 e il 1924 E testimonianza di questa ristrutturazione sono i due archi a tutto sesto Che praticamente hanno immaso la parte Hanno ampliato la chiesa verso la valle Successivamente poi c'è stato un altro ampliamento Si vedono gli architravi e l'abside Che sono stati fatti, diciamo, dopo il terremoto del 1962 E quindi i vari stili si sono uniti e si vedono che sono diversi Da notare questo soffitto a fin di cassettoni Questo è particolare perché in realtà è decorato in oro zecchino E l'oro è stato ottenuto dai monili di scarso valore del tesoro di Santa Reparata Sono stati fusi e utilizzati per il soffitto Fortunatamente il tesoro di Santa Reparata almeno una parte sta quassù Perché il resto è stato portato via dai ladri Il tesoro di Santa Reparata rappresenterebbe praticamente le donazioni che i devoti facevano Tutte le donazioni a partire dal 1802 quando è arrivato qui il corpo di Santa Reparata E questo nel 1997 ci fu praticamente il furto di tutto il tesoro di Santa Reparata E gli ex voto che stavano in chiesa Quindi è stato depredato tutto E fortunatamente l'unico oro di Santa Reparata che è restato sta nel soffitto Ed eccoci qui ai piedi dell'altare di Santa Reparata Martire Non è la patrona di Pesco Sannita ma è comunque la figura santa A cui particolarmente sono legati i cittadini di questa comunità del Beneventano Sì questa santa è arrivata qui nel 1802 In realtà la storia è piuttosto lunga perché si tratta dopo la rivoluzione del 1799 Il feudatario non aveva più un buon contatto con il pubblico Con i suoi feudatari e allora cercò di tenerseli buoni Per tenerseli buoni prima di tutto fece rinnovare l'indulgenza plenaria all'altare del Santissimo Corpo di Cristo e Rosario E fece istituire la Via Crucis nella chiesa Però questo non bastò Allora per tenersi buoni fedeli Sia lui che il parroco pensarono di prendere un corpo santo dalle catacombe romane e portarlo qui E scelsero Santa Reparata No, non scelsero Santa Reparata A un certo punto portarono un corpo in una cassettina d'osso con San Pio Martire Ma era un santo diciamo di seconda categoria perché non poteva per lui non poteva essere celebrata messa Si poteva solo esporre al popolo però senza celebrazione di messa Allora il parroco non molle questo santo perché non serviva a niente Non attirava il popolo Allora il feudatario ritornò a Roma e si fece dare Santa Reparata Nella lettera testimoniale non c'è più questo vincolo di evitare di dire la messa Quindi si poteva venerare normalmente questa santa Allora poi San Pio che era stato donato prima Fu portato a Pietrelcina Alla chiesa di Sant'Anna perché Pietrelcina e Pesco erano diciamo due feudi dello stesso feudatario L'ho portato a Pietrelcina e restò nella chiesa di Sant'Anna Questo fatto è stato molto importante storicamente perché Padre Pio ha preso il nome proprio da San Pio Martire Perché lui abitava vicino alla chiesa di Sant'Anna Quindi quando è entrato in commento si è fatto chiamare Fra Pio da Pietrelcina Quindi questo dono che non ha voluto Pesco ed è andato a Pietrelcina Ed è stato più fecondo magari di quello che è restato qua di Santa Reparata in realtà Questa è l'antica cappella di Santa Reparata In realtà era la cappella gentilizia del feudatario E qui fu messo il corpo di Santa Reparata nel 1802 Ed è l'unica parte della chiesa che è restata integra Cioè non è stata nemmeno toccata dal terremoto Soltanto che adesso non esiste più come cappella Perché l'altare è stato smontato ed utilizzato come pavimento E l'arco che collegava la cappella alla chiesa è stato chiuso Però questa è la parte più antica della chiesa Sul soffitto della navata laterale della chiesa del Santissimo Salvatore E quella che dà accesso alla sagresia Troviamo una tela del 2002 Una tela recente ma che comunque è di un'importanza simbolica non indifferente Poiché non solo racconta il martirio di Santa Reparata Ma in un certo senso dà dei segni tangibili anche del territorio Praticamente lo sfondo della tela rappresenta due cose Una parte diciamo romana per vedere l'epoca in cui il fatto è successo E questa parte diciamo è rappresentata da quelle due colonne Che sono praticamente state riprese dal foro romano di Pompei Il paese che si vede in fondo invece è l'attuale Pesco Sannita Visto dai colli pacifici E poi viene raccontato il martirio come viene detto Cioè viene decapitata Santa Reparata C'è il carnefice, ci sono i soldati Ci sono i credenti che vogliono salvarla Insomma la solita storia riportata dal martirologio romano Da Santa Reparata Martire a San Nicola San Nicola è il patrono di Pesco Sannita Una devozione diversa ma una devozione parimenti importante per questa comunità Da quanti secoli si venera il santo? Praticamente dagli inizi del Cinquecento La sua chiesa non era questa Era la chiesa di San Nicola che sta a un paio di centinaia di metri da qui È la chiesa più antica ed era una chiesa che non era sotto il dominio del Diciamo del feudatario del luogo ma era data in ius patronato al comune di Pescola Mazza Che allora non si chiamava comune si chiamava università Era sotto lo ius patronato dell'università di Pescola Mazza E questa donazione fu fatta nel 1518 dal futuro papa Da Alessandro Farnese che fu diventato papa Paolo III In realtà paolo III Farnese Questa chiesa purtroppo è stata abbattuta dopo il terremoto intorno al 1971 E allora la statua è stata portata nella chiesa di Santissimo Salvatore Il patrono San Nicola viene festeggiato dalla comunità? Si è festeggiato dalla comunità Anticamente si festeggiava l'ultima domenica di luglio Si faceva una grande festa La cosiddetta festa delle carre Cioè dei carri Cioè si allestivano dei carri con dei covoni di grano Caricati ad uovo Cioè con le spighe verso il basso E la parte diciamo Lo stelo verso l'alto Questi carri formavano una specie di ellissoide Come un uovo diciamo E alla sommità, al centro di questo carro Si metteva un covone con le spighe verso l'alto Che veniva chiamato Pennacchiera Con il nome locale Questi carri venivano fatte Cosa simbolizzavano? No, no, venivano fatte a tutte le famiglie E poi c'era il carro che vinceva la gara Come si faceva questa gara? Cioè si misurava Da un mozzo del carro all'altro mozzo con una fune Ed era la prima misura che si faceva Poi si misurava Dalla parte centrale Della base del carro posteriore Fino al sedile anteriore E sempre con questa corda Che andava a finire su questo covone Con le spighe verso l'alto La cosiddetta Pennacchiera Come ho detto Si sommavano le due misure E chi raggiungeva il numero maggiore vinceva E solitamente si vinceva un taglio di stoffa da uomo Perché allora gli uomini valevano più delle donne Quindi il dono era rivolto all'oro Un'usanza che ovviamente nel corso dei secoli si è persa Persa Oggi come si festeggia San Nicola? Oggi si festeggia come si festeggiano tutti i santi Cioè con la banda musicale Con i cantanti e tutto il resto Quindi è finita quella tradizione E si sono perse un po' Speriamo di riportarla ancora in auge Perché è una bella cosa Perché praticamente questa tradizione È iniziata proprio nel 1518 Perché quando fu dato lo ius padronato al comune Questo ius padronato fu dato in cambio di 40 tomuli di grano Che servivano per pagare i sacerdote Allora per raccogliere questo grano Pensarono invece di raccogliere Facevano questa festa delle carre Cioè raccoglieva ogni famiglia Facevano questo carro Poi tutti i covoni venivano messi su un'aia Che era l'aia di San Nicola Aria di San Nicola Dicevano allora E praticamente veniva trebbiato questo grano E si usava per i sacerdote Quindi praticamente è stata una festa Dovuta proprio a questo fatto Che dovevano raccogliere il grano È stata una facilitazione della raccolta del grano Ci ha raggiunti il sindaco di Pesco Sannita Antonio Michele Un punto di riferimento ormai da diversi decenni di questa comunità E al suo terzo mandato Alle nostre spalle il panorama che è possibile vedere dal belvedere della chiesa madre Alle nostre spalle il fortore da un lato L'irpina dall'altro Che comunità è quella di Pesco Sannita? Pesco Sannita è una piccola realtà Siamo circa 2000 abitanti Che gode di una posizione geografica favorevole Perché siamo vicinissimi alla città di Benevento A circa 10 chilometri Ma soprattutto siamo vicini a Pietralcina Da cui distiamo appena 4 chilometri La famosa terra natale di Padre Pio Che chiaramente con il movimento soprattutto dal punto di vista turistico Influenza in modo positivo anche questa nostra comunità Pesco Sannita è una comunità che vive fondamentalmente di agricoltura Che è l'attività prevalente Ma che negli ultimi anni ha visto uno sviluppo notevole Soprattutto nel comparto turistico Con la presenza di molte attività in questo settore Che stanno crescendo in modo veramente notevole E soprattutto negli ultimi anni Possiamo vantare di poter avere qua nel nostro territorio Lo zoo delle Maitine Che è un'attività veramente di grande prestigio Che dà lustro a questa nostra realtà locale Un comune che si è attivato anche per quanto riguarda La ristrutturazione dei suoi siti E monumenti di interesse storico, architettonico e religioso Sicuramente Perché noi siamo fermamente convinti Che dove se non c'è la storia di una comunità Non si hanno radici solide E quindi siamo alla continua ricerca Per cercare di valorizzare quanto più possibile Quelli che sono gli elementi del nostro passato Tra questi sicuramente possiamo vantare il merito Di aver ristrutturato quella torre di origine medievale Qua nel pieno centro storico di Pesco Sannita Abbiamo ristrutturato una serie di altri elementi tipici Dei nostri luoghi E sicuramente puntiamo a recuperare Quelli che sono i resti della famosa chiesa di San Nicola Che in passato tanto lustro ha dato a questa nostra comunità È un lavoro che dobbiamo portare avanti in modo sinergico E da questo punto di vista è importante la collaborazione Proprio con la chiesa Con il parroco E sicuramente negli ultimi tempi Questa sinergia sta diventando sempre più forte Il nostro nuovo parroco Don Antonino È con noi da pochi mesi Ma si è creato già un rapporto veramente molto solido Molto forte E sicuramente lavorando insieme Quindi sfruttando appieno quella sinergia Di cui dicevo prima c'è tanto bisogno Riusciremo a fare tante cose positive Per questa nostra comunità L'obiettivo è comune Quindi vogliamo lasciare un segno tangibile Per il futuro di questa nostra realtà L'obiettivo è comune Per il futuro di questo